Dopo un anno e mezzo di scuola a intermittenza, tra didattica a distanza e relazioni interrotte, alcuni studenti si sono sentiti travolgere da una doccia fredda lo smembramento di una classe terza. Tradotto, un gruppo di allievi deve essere separato, è quanto recita la comunicazione diffusa dalla preside del liceo Respighi di Piacenza, Simona Favari, una circolare che è stata accolta da qualche malumore, perché dividerci e ripartirci in altre classi, fanno notare alcuni ragazzi, è una decisione terribile che ci disorienta all'improvviso e interrompe i nostri legami costruiti negli ultimi tre anni, peraltro dopo questi difficili mesi di Covid. Ma la circolare dell'Istituto di Barriera Genova spiega che in seguito alla determinazione degli organici da parte dell'ufficio scolastico provinciale, risulta necessario ridurre di un'unità il numero delle classi quarte di scienze applicate per l'anno 2021-2022. Si provvederà quindi all'indicazione della classe da smembrare, applicando l'apposito regolamento del Respighi. Pronta la replica, trasmessa via mail, in cui i genitori e studenti manifestano la loro perplessità, perché i ragazzi, dicono, hanno instaurato relazioni e legami profondi. In alcuni casi il trasferimento in nuovi gruppi sarebbe controproducente. La preside Favari riconosce che si tratta di una misura poco piacevole, ma necessaria ogni estate, in base alle indicazioni del provveditorato. Gli studenti della classe smembrata potranno decidere in quali gruppi dividersi. Va detto però che la riorganizzazione di un determinato numero di allievi non è una novità, anzi un meccanismo che si ripete quasi ogni anno a seconda degli organici stabiliti dal provveditorato, procedendo quindi ad accorpamenti delle classi esistenti o riduzioni delle nuove prime. I tagli riguardano infatti anche i licei gioia e colombini, gli istituti romagnosi e volta e altri plessi del territorio.